E' bene, l'argomento di stasera è invece ancora sulla serie Il Regno di Dio e come vedete il tema è piuttosto ampio stasera, quindi vedremo dove riusciamo ad arrivare. La nuova mentalità e i vecchi concetti, poi il regno contro la religione e la forza di impatto del Regno dei Cieli. Dunque sono tre argomenti piuttosto consistenti e molto importanti. Il primo è che vogliamo affrontare la nuova mentalità e i vecchi concetti, cercherò di essere piuttosto veloce, ho fatto una slide un po' al volo per dare alcuni concetti vecchi e nuovi messi a confronto, perché il problema che la maggior parte delle persone ha è che si ritrovano a leggere la Bibbia e anche a parlare del Signore, utilizzando però i concetti che hanno acquisito attraverso la loro formazione, la loro istruzione, eccetera. Il punto è che se noi cerchiamo di dare il messaggio che Gesù ha dato, utilizzando però dei concetti anche politici, terminologia ormai per noi comune, normale, come vedete il concetto di repubblica, di democrazia o di regno, anche come lo si intende secondo quello che è stata l'organizzazione del Regno dei Regni, si finisce per non capire il messaggio di Gesù Cristo. Cioè, quando nella Bibbia si legge che Gesù è il Re dei Re e si parla del Regno dei Cieli, Gesù dice che il Regno dei Cieli è vicino, cambiate mentalità, le persone di oggi nel 2012 hanno dei concetti che non riescono a ricevere il contenuto esatto di questo messaggio. Quindi il problema è un problema di comunicazione e di resa concettuale del contenuto del messaggio di Gesù Cristo. Mi spiego meglio. Per esempio, se noi oggi vogliamo capire la persona di Gesù e il Regno dei Cieli di cui lui tanto ha parlato, con i concetti che abbiamo noi di colui che guida sulla scena politica, chiaramente non possiamo ben comprendere il messaggio di Gesù. Per esempio, la Bibbia è un libro che parla di un Regno. Ebbene, parla di un Regno e non di una Repubblica. Noi però non abbiamo il concetto di Regno, non l'abbiamo vissuto, perlomeno parlo della mia generazione e tutti quelli che sono qui oggi in Italia, parliamo dell'Italia, parliamo della Slovacchia, della Polonia, cioè non vivono in un Regno nel senso in cui Gesù poteva comunicare con le persone con cui parlava. Noi viviamo in sistemi politici oggi diversi. Vedete, Repubblica, Democrazia. Ho tentato un approccio dove la Repubblica è un Presidente e la Democrazia è un Primo Ministro. Può essere il contrario. Insomma, forse ciascuno può applicare il suo corrispondente. Però voglio dirvi questo, che la nostra idea che abbiamo di come viene gestita la res pubblica e quindi come viene anche gestito il sistema politico, non può con quei concetti comprendere il messaggio di un Regno che viene. Il concetto, per esempio, di Repubblica, di democrazia non è presente nella Bibbia. Se noi ci formattiamo sui concetti che conosciamo, applicandoli al Regno che ha predicato Gesù, viene fuori un pasticcio, viene fuori una cosa che non ha senso. Per esempio, nella Repubblica, in alcune forme, il Presidente può essere votato dai cittadini o con sistemi particolari, come vediamo in America. Nella democrazia ci sono altri sistemi dove il voto viene dai cittadini comunque, viene dalla gente. Quindi chi ha il compito di guidare gli altri è scelto da chi deve essere guidato normalmente nei nostri sistemi. Parlo dell'Italia, dell'Europa, parlo. E quindi, quando noi poi andiamo a leggere il Vangelo e sentiamo Gesù che dice sì, io sono re, per questo sono venuto, per dare testimonianza alla verità, che io sono re, io vi ho scelti e non voi avete scelto me, comprendiamo che il nostro concetto di colui che guida scelto dal popolo non funziona con il messaggio che Gesù dà. Perché non noi abbiamo scelto lui, ma lui ha scelto noi. Per esempio, quando Gesù dà i suoi precetti, dà i suoi insegnamenti di come vivere nella giustizia, prendete Matteo 5, 6, 7, prendete Giovanni dove dice amatevi gli uni e gli altri. Quindi noi pensiamo ai comandi o alle disposizioni che un presidente può dare. E più che un comando o una disposizione abbiamo l'idea di qualcosa che viene fuori dopo un processo di digestione politica che partendo dal basso arriva in cima e quindi è un'opinione espressa da una maggioranza. Ma questo non può funzionare nel regno dei cieli, perché in un regno la parola del re è legge, non perché esprime l'opinione del gruppo di maggioranza, ma perché lui è la legge nel regno. Quindi noi invece possiamo addirittura applicando i nostri concetti di oggi al messaggio di Gesù, il Messia, possiamo finire per ritenere ciò che Gesù ha detto opinabile e cioè suscettibile di valutazione da parte nostra e di cambiamento se non ci sta bene. Tanto vero che alcuni sostengono di poter dire la propria opinione in merito a quello che Gesù ha detto, pur riconoscendosi i cittadini di questo regno. Comprendete bene che questo non può funzionare. Io questo non serve soltanto per far vedere che queste persone sicuramente in buona fede possono solo applicare i concetti che conoscono, perché magari nessuno gli ha mai spiegato che c'è una differenza di contenuto. In un regno le opinioni dei cittadini non contano. Quindi quando Gesù diceva che lui è il re e quando lui parlava di un regno dei cieli che è venuto e diceva fate così, se non fate quello che dico io non vi conosco, è un messaggio di un re, un presidente della Repubblica, un primo ministro dei nostri sistemi, non parlerebbe mai così, perché risponde di quello che dice e quello che fa ai cittadini che l'hanno eletto e quindi riporta l'opinione di altri. Tanto che se le sue opinioni a un certo punto non vanno più bene a quelli che lo hanno eletto, hanno il potere di toglierlo di mezzo e di nominarne ed eleggerne un altro. Questo in un regno è impossibile, è impensabile. In un regno o fai quello che dice il re, e non parlo delle monarchie costituzionali di oggi perché il concetto è un po' annacquato e contaminato anche da questo, parlo di un regno dove la parola del re è legge per i cittadini. Dunque comprendiamo bene che noi non siamo abituati al regno ed è per questo fondamentalmente che noi non obbediamo a Gesù perché non abbiamo chiaro che la sua parola per noi è legge, che la sua legge per noi è il meglio e che il meglio per noi è la gloria del re. Noi non l'abbiamo chiaro questo perché non conosciamo quel sistema e quindi parliamo, a volte ci riempiamo la bocca di cose che non hanno riscontro nel nostro sistema concettuale, per cui rimane ad un piano teorico, quasi ideologico, mai calato nella nostra realtà quotidiana. Ecco quello che volevo dire. Quindi per una società democratica è difficile obbedire a Dio. Pensate quanto contano le opinioni. Le elezioni sono opinioni espresse attraverso il voto. Quindi in una società democratica le opinioni dei cittadini sono il fondamento della gestione della cosa pubblica o almeno dovrebbero esserlo. Ebbene questo in un regno funziona tutto al contrario. Le opinioni dei cittadini non contano niente. L'unica cosa che conta è l'opinione del re, alla quale i cittadini sono tenuti a conformarsi. Il regno dei cieli è un regno particolare. Usiamo anche qui il concetto di regno anche se questo, come ho detto, è stato un po' contaminato. Quando uno pensa al regno, pensa subito a qualcosa di tirannico, di spotico, di cattivo, comunque di abuso di potere, di ricchezza, eccetera. Ma ecco, forse anche qui il nostro concetto di regno è un po' contaminato da quelli che sono stati dei risvolti storici sulla terra. Il regno che viene dal cielo ha quelle caratteristiche del regno e del re, ma appunto è fatto di pace, di giustizia e di santità del re stesso. È il creatore di tutte le cose visibili e invisibili, il re che noi abbiamo. Dunque, ripeto, abbiamo delle situazioni per cui non possiamo pensare in un regno che le opinioni dei cittadini continuano. Non possiamo pensare che abbiamo diritto di voto e quindi quando Gesù ci piace è il nostro eroe, quando Gesù non ci piace è da togliere di mezzo e prendiamo altri idoli. Per esempio, quando ci parla delle questioni pratiche di vita che riguardano il denaro, il denaro, il denaro, il denaro, che riguardano il sesso, che riguardano l'amore tra le persone, che riguardano i prestiti, che riguardano tutte queste cose qui. Molto semplice. Prendete quei 5, 6, 7 capitoli di Matteo, leggeteli e il capitolo 6 di Luca. Fantastico sotto questo profilo. Ci sono delle leggi che lui ha dato in quei capitoli che per una, in una, se fosse un'espressione diciamo democratica di gestione della cosa pubblica, chiaramente di come dovrebbero andare le cose, i cittadini che l'hanno votato farebbero la svelta a togliere di mezzo. Ecco, in un regno questo non è possibile. In una società come le nostre, sì, questo è possibile, non dico che lo farebbero sicuramente, ma è possibile tornare indietro. Quindi le opinioni dei cittadini contano, non abbiamo diritto di voto, nel regno dei cieli non ci sono referendum. Cioè se chi ha il potere, decide una cosa, il popolo insorge e vuole cambiare la cosa, non è possibile. E non puoi togliere potere al re. Noi siamo stati, lo ripeto, allevati in una democrazia, siamo abituati a dare opinioni e quando il re parla noi diciamo il nostro punto di vista. Questo non è vivere in un regno. Io non sto dicendo che chi fa così, diciamo, è sotto un giudizio. Io sto dicendo che quello che Gesù ha detto, che Gesù è, che il suo regno è, è un'altra cosa. Quindi chi vuole ci sta e chi non vuole non ci stia. Ma lui è chiaro, quando dice voi non fate quello che io dico, quindi anche se avete una parvenza di funzionare secondo il mio regno, non fate quello che io dico. Perciò io vi dirò non vi conosco. Ecco, questo è molto importante perché ci dà proprio il senso. Del resto, quando noi parliamo di peccato, qui vedete in questa slide, il peccato non è altro che un atto di ribellione contro il governo. Nel regno dei cieli, gli atti di ribellione sono considerati peccati. C'è poi Lucifero che non solo fece ribellione, ma dalla ribellione passò alla rivoluzione perché mise d'accordo tanti altri degli angeli e se ne tirò dietro un terzo quando fu precipitato. Ricordate la storia appunto narrata nella Bibbia sulla ribellione e rivoluzione di Lucifero. Gesù ci dice io l'ho visto cadere dal cielo come una fulgore. Cioè la ribellione in cielo non è tollerata. E questo è molto semplice. Lucifero voleva essere come Dio, si ribellò, organizzò una ribellione insieme ad altri angeli e praticamente ci fu una sommossa. Questo sto quasi scherzosamente semplificando la cosa. E Gesù dice di questo, io l'ho visto cadere dal cielo come una fulgore. Cioè la ribellione in cielo è considerata un peccato, nel senso che non ci puoi stare. Se sei ribelle, a dispetto del re non ci stai nel suo regno. In un regno quando non obbedisci al re, vieni messo fuori dal regno. Perché la ribellione non è tollerata. Infatti la Bibbia è piena di esempi quando dice Dio odia il peccato. Tanto lo odia che l'ha dovuto togliere di mezzo l'uomo che era schiavo del peccato affinché libero dal peccato potesse servire come strumento di giustizia a Dio una volta rinato nello Spirito Santo. Pensate cosa Dio ha dovuto fare per togliere di mezzo la ribellione. Cioè per dare all'uomo la possibilità di obbedire al re e non più di ribellarsi a lui. Quindi sappiamo in questa slide trovate il solito Genesi 1.26 dove ecco il pensiero iniziale di Dio sull'uomo. Dio ha creato l'uomo come lui, a sua immagine. L'ha creato a sua somiglianza cioè perché funzioni come lui. Dio dette un dominio all'uomo, cioè un territorio da dominare e gli disse poi soggioga anche tutta la terra, riempila e poi disse coltiva e custodisci il giardino e riempi la terra. Ricordate tutte queste parole nei primi passi della Genesi. Quindi il suo desiderio era che la famiglia dei suoi figli che lui creò per dominare sulla terra potessero insieme a lui condividere il dominio stesso di Dio. Dio stesso creò la terra per l'uomo cioè perché poi i suoi figli avessero un territorio da dominare. Cioè è qualcosa che Dio ha creato per l'uomo affinché l'uomo potesse esprimere la sua natura su quella terra, su quel territorio. Nei regni non solo si parla di leggi perché se no si torna a un discorso un po' morale cioè dove la legge serve come dice Paolo soltanto per mettere in evidenza il peccato sostanzialmente. Nei regni si parla più che altro di standard. Anche questo è un concetto un po' nuovo per noi. E cioè il re pone i suoi standard come standard per tutti i cittadini. Per esempio se in un regno al re piace che nel suo dominio si guidi a sinistra lo standard è guidare a sinistra e tutti i cittadini guidano a sinistra. Perché? Perché è lo stile di quel re. Di modo che tutti nel suo regno fanno secondo il suo stile. In un regno lo stile del re è lo stile dei cittadini. Lo stile del cittadino diventa il riflesso dello stile del re. Quindi gli standard che il re pone i cittadini lo mantengono. Ve lo ripeto. Lo standard che il re pone i cittadini lo mantengono riflettendolo come in uno specchio. Questo è il concetto del regno. Il regno non è altro che la influenza sovrana e la azione sovrana di governo di un re sul territorio lo impatta modellandolo con la sua volontà, con il suo modo di pensare e il suo stile di vita affinché il territorio diventi come vuole lui. Perché è suo, gli appartiene. Un re è signore del suo territorio, è proprietario del suo dominio. Un presidente della repubblica non sarà mai proprietario dell'Italia. Un primo ministro non sarà mai proprietario dell'Italia. Questo porta anche un altro concetto. Siccome la responsabilità viene con la proprietà o con l'affidamento della proprietà da parte del proprietario, chi non è proprietario di un territorio, di un'area e li viene affidata in gestione da chi altrettanto non è proprietario, non potrà mai essere responsabile. Quindi in sostanza in una repubblica in fondo non sei mai responsabile. In fondo. In un regno sì, perché il re è proprietario della terra, dei boschi, dei sassi, delle case, delle strade, delle macchine, dei cittadini, dei loro vestiti, di tutto quello che è presente nel territorio. Quindi per noi dominare vuol dire sostanzialmente, quando Gesù, quando Dio ci dice, dominate sulla terra, vuol dire mantenere sulla terra gli standard di Dio. Per questo noi cristiani, noi non dobbiamo creare standard. Noi possiamo solo mantenere gli standard che il Dio ha già stabilito. Dunque non siamo fatti per creare degli standard, ma solo per mantenere quelli che il re ha già predisposto e stabilito. Secondo l'intenzione di Dio dunque, se i suoi cittadini sulla terra sono fatti per mantenere gli standard che il re ha stabilito soggiogando la terra, riempiendola e comportandosi in quel modo, con quello stile di vita, con quella filosofia di vita, con quel modo di approcciare le relazioni, con quel modo di usare e preservare le risorse, con quel modo di trattarsi gli uni gli altri. Questo è lo standard. E noi cosa facciamo degli standard di Dio? Dove sono gli standard? Sono nella sua parola. Io ho questa Bibbia rilegata, mi piace molto, ma è la stessa di tutte le altre. Cioè, nella sua parola ci sono i suoi standard, ciò che lui vuole, la sua volontà, come vivere. E dunque, se noi conosciamo gli standard del re, non possiamo poi vivere con standard diversi. È veramente un controsenso. Io, se vedo un cristiano che vive con standard diversi da quelli posti dal Signore, io direi, scusa, ma perché dici che sei cristiano? Non lo sei. Tutti noi siamo soggetti a sbagliare, a cadere, a peccare, ovviamente, perché viviamo nella carne, siamo in un corpo. Dio ha provveduto con la morte del suo figlio, l'espiazione dei nostri peccati, perché noi ricorrendo a lui potessimo continuare ad avere il diritto di stare nella giustizia. Ma chi sceglie di dire appartengo a questo regno, ma seguo i miei standard? Non lo so se avete, su cosa volete sentire parlare, su sistemi bancari. Qui nella Bibbia, nei Vangeli ci sono molti capitoli su come impiegare le risorse, come utilizzarle, come dare i prestiti. Una regola che Dio può, Gesù è chiaro, dice di non chiedere interessi, di non prestare ad interessi. Capite? Se poi lo standard dei cristiani è di fare i soldi sulla pelle di chi non le ha, chiedendo interessi, è chiaro che non sono cittadini del suo regno. Io vado un po' al sodo, ma se Dio ci parla di amare i nostri nemici e poi gli standard dei cristiani sono quelli di mettere al bando i nemici, piuttosto che pregare per loro, non è lo standard del re. Dunque ecco, vado su cose pratiche, perché poi di questo si tratta. Se noi offriamo, diciamo, con il nostro modo di vestire, con il nostro modo di mangiare, motivo di scandalo, ma non alla Paolo, quando lo dice io sono talmente libero che posso mangiare anche le carni molate a litoli, però il rispetto di chi si scandalizzerebbe non le mangio. Va bene, è un atto d'amore. Ma quando i cristiani nel modo di mangiare, nel modo di vestire, si comportano in modo sfrenato, non per libertà e per rispetto di chi non capirebbe, ma perché è il loro modo di vivere. Parlo di andare vestiti in modo, andare poco vestiti o, che ne so, mangiare smodatamente, ubriachezze, eccetera. Questo non è lo standard del regno dei cieli. E dunque, se non stai agli standard del re, non puoi stare nel suo regno. Ma qui siamo già, questo è già grossolano. Io dico che noi siamo chiamati non solo a rispettare gli standard del re, ma a mantenerli nel mondo della moda. Siamo noi che dovremmo fare lo standard. standard. Gli altri, guardando noi, dovrebbero, noi cristiani, dovrebbero vedere lo standard di Dio per il vestire. Noi siamo chiamati a mantenere il suo standard, il suo stile di vita. E siccome in questo modo noi lo possiamo fare ed è un atto di dominio perché manteniamo quello standard, gli altri, vedendo noi dovrebbero vedere qual è la volontà di Dio per gli uomini sulla terra. In altre parole, il nostro compito è far sì che la terra sembri il cielo, che la terra assomigli al cielo. E difatti Gesù, molto semplicemente, perché è semplice il Vangelo, ci disse pregate così. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, qui sulla terra come in cielo. Cioè quello che te hai deciso, quella che è la tua volontà, così come è stabilita in cielo, lo sia anche sulla terra. Il tuo regno, la tua forza di impatto sulla vita delle persone, sull'ambiente, su tutto, si manifesti qui sulla terra, proprio come in cielo. Quindi il desiderio di Dio è che la terra assomigli sempre di più al cielo. Che vuol dire al cielo? Che cioè il modo di vivere degli uomini e il loro modo di gestire le cose che gli sono state affidate in amministrazione, prima di tutto la terra, l'ambiente, assomigli a quello che Dio aveva pensato per gli uomini, per la terra e per l'ambiente. Ovviamente poi ci troviamo a situazioni paradossali come in Italia in questo tempo, dove scopriamo che intere città sono avvelenate da decenni di polveri velenose che hanno causato tutta una serie di malattie a tutta la popolazione. Troviamo situazioni di degrado, di scariche a cielo aperto dappertutto, città invasi dai rifiuti, cioè dico il minimo. Però non è questa l'idea di Dio per la terra, eppure Italia è un paese considerato cristiano. Allora dov'è lo standard del cielo? Dove lo vediamo? Ora parlo di ambiente perché è più evidente, ma se vogliamo parlare di relazioni, se vogliamo parlare di gestione delle cose altrui, basta accendere la televisione a vedere un telegiornale. Quindi il messaggio che in fondo il signore, ecco qui vedete la slide che riassume, qui è mancato un non, non puoi sfiduciare il re, non ci sono referendum, vedete all'inizio non, guardate nel regno non, contano le opinioni dei cittadini. Se ci sono, per esempio, oggi va di moda parlare della omosessualità, il concetto dell'omofobia, eccetera, per cui è considerato non appropriato, anzi quasi illecito parlare, illecito no parlarne, ma diciamo è non appropriato considerarsi non d'accordo con la pratica omosessuale. Allora voglio dire, nella Bibbia è chiaro che Dio non gradisce questo, nel senso che non è una cosa che lui ha inventato per l'uomo. Quindi parlando sempre di opinione di Dio e di impossibilità di opinione dei cittadini, non ci possono essere cristiani che dicono il contrario. Io non sto dicendo che non puoi dire il contrario, ognuno nel libro deve dire quel che gli pare. Dio ci lascia la libertà e quindi gloria a lui che ce l'ha data. Ma io dico, se dici che sei cristiano, non puoi pensarla diversamente da lui. E Dio non parla degli omosessuali, parla dell'omosessualità. Perché lui è venuto a dare la sua vita perché la gente uscisse da situazioni che lui non ha creato e dove l'uomo si è trovato invischiato a causa di situazioni generazionali. Vuoi sapere per cosa? Dunque, ecco quello che voglio dire. Noi non possiamo avere la nostra opinione. Noi siamo ambasciatori di questo re, ambasciatori di questo regno, per cui quando noi parliamo, non parliamo di quello che noi riteniamo giusto, ma parliamo di quello che Dio ha detto che è giusto e noi lo diciamo per esprimere l'opinione del re come suoi portavoce, suoi ambasciatori su questa terra. Quindi in tutte le aree della nostra vita, ripeto, dal sesso al cibo, al vestire, ai soldi, al denaro, alle cose, il nostro stile, il nostro standard è quello di Dio e non può essere diversamente. Ecco qui, vedete su questa slide il concetto, i concetti che ho appena spesso. Ed ecco, vediamo il messaggio dunque che depurato un po' dalla difficoltà concettuali che possiamo avere. Ricordo a tutti, c'è anche una canzone che Fabrizio ha scritto su questo, Gesù non è un presidente. Ricordate, qualcuno l'ha sentita, Gesù non è un presidente. Perché? Perché se consideri Gesù un presidente potrai essere in disaccordo con lui, potrai disapplicare i suoi standard, potrai andare contro le sue opinioni perché hai diritto ad esprimere le tue. Questo regno non esiste, non c'è. Quindi richiamo anche tutti gli amici credenti che sono all'ascolto a rifasarsi su questo, perché se il messaggio è quello del regno non può viverlo come se fosse un presidente lui. Qual è dunque il messaggio che in tutta la Bibbia è espresso? Qual è il messaggio di Gesù che lui è venuto a dare? Il messaggio è il messaggio del regno. Guardate un po', è questo Vangelo che vuol dire questa buona notizia del regno, Matteo 24,14, sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Vedete, qui ho messo nella slide molto semplicemente la fine del mondo, ho preso le parole di Gesù, dice, verrà quando sarà diffuso in tutto il mondo il Vangelo del regno. Il Vangelo vuol dire buona notizia, buona notizia del regno, dice Gesù. Dunque che vuol dire? Poco prima aveva appena spiegato che ci sarebbero stati rumori di guerre, ci sarebbero stati guerre, terremoti, situazioni di difficoltà, carestie. Ma dice, ma questo non è la fine. Verranno anche tanti che cercheranno di ingannarvi. Questa non è la fine. Sono segni che è in atto un cambiamento che porterà poi alla fine. Ma questa non è la fine, dice. Quando invece la buona notizia del regno sarà predicata in tutto il mondo, a tutte le genti, allora verrà la fine del mondo. Ecco dunque che è inutile che ci si affanni dietro profezie. Non so se erano mai a sé che proprio non mi proprio non so di che, di che, di che razza sono, ma a cercare la fine del mondo verrà. Gesù disse io non so quando succederà. Non lo so. Solo il Padre mio lo sa. Ci sono dei cristiani che sanno quando avverrà e dove. Hanno anche organizzato dei centri di pellegrinaggio perché lì tornerà Gesù. Ma cristianoni, gente ritenuta importante, fanno i pullman per andarci. Ora io dico se Gesù è stato chiaro, ha detto io non so quando. Questo solo il Padre lo sa. Dunque, allora, se veramente la fine del mondo, cioè quando sarà finito il tempo che ci è dato ora in questa dimensione, verrà chiuso. Dipende dalla diffusione della buona notizia del regno. Com'è che possiamo accelerare quel momento? Com'è che il Signore può tornare quando noi ci decideremo a velocemente diffondere la buona notizia del regno? Quindi in realtà dipende dalla diffusione che ha questa buona notizia. Perché tutti pregano, ma non tutti, anche questo è venuto un po' in disuso negli ultimi tempi. Perché venga la fine, parlo dei credenti, così almeno si va tutti in cielo, finisce, vorrei chiarire, entriamo tutti in quella dimensione spirituale che Gesù ci ha preparato affinché stessimo con Lui per sempre in una terra nuova, sotto cieli nuovi, ci sarà una nuova Gerusalemme che scenderà dal cielo, eccetera, eccetera. Quindi non vorrei, cercate di capire il Nuovo Testamento dove ci porta a quello che è il domani. Ma tutti vogliono accelerare questo questo momento. Ebbene, l'unico modo per accelerarlo è quello di iniziare a predicare il Vangelo del Regno. Non c'è altro modo. Quello che vi sto dicendo io stasera, i concetti semplici, base che Gesù intendeva e che oggi possono essere fraintesi, quindi offrire di nuovo alla gente la possibilità di capire il messaggio di Gesù, diffondere il suo messaggio, non il nostro. Vi ripeto, Gesù parlò di molti segni e disse sempre questa non è la fine. La Bibbia non è fatta da messaggi di uomini che dicevano agli altri quello che li passava per la testa, è fatta da messaggi che Dio ha dato per mezzo di uomini. Quali sono dunque i segni veri quando la fine verrà? Quando il Vangelo del Regno è predicato a tutti e quando le genti ricevono questo messaggio. Quindi non è che si devono convertire tutti al Regno al Signore quando l'avranno sentito nel modo dovuto. Allora io dico oggi tra non parlo delle nazioni, delle regioni della terra dove ancora il cristianesimo non è stato sentito. Ci sono delle sacche ancora dove non è arrivato il cristianesimo, cristianesimo, ma di quei paesi dove è arrivato, in quanti si sente predicare il Regno dei Cieli. La mia domanda è questa. Non pensiate che è già fatta. Sì, allora se si tratta di diffondere il passaggio del Regno, ormai è diffuso quasi in tutta la terra, manca solo qualche bocconcino qua e là. Ma non è vero. Non è vero. Tutta la terra si è diffuso un gran parlare intorno a Gesù, ma non del Regno dei Cieli, non del suo messaggio. Il Regno è qui. Il Regno è in voi. Per secoli cosa si è predicato? Andiamo a vedere le chiese cosa hanno predicato. A volte il Regno dei Cieli, molte volte no. Cosa è arrivato alle genti? Cosa ha capito la gente? Io ho sempre sentito molto parlare e lo dico da parte mia. Guardate cosa predicano oggi credenti per dire secoli. Qui devo mettere secoli da secoli. Dottrine, politica, filosofia, ideologia, religione, sofferenza, povertà, attivismo sociale. Questo è quello che si predica. Ho messo solo alcuni. I primi mi sono venuti in mente. Molte volte è predicata l'organizzazione ecclesiastica. Molte volte è predicato come obbedire a quelli gerarchicamente sovraordinati. Ma che c'entra? Predicare vuol dire annunciare e annunciare vuol dire dire a tutti qual è la verità, che il messaggio di Gesù. Noi non possiamo avere un messaggio nostro. La Chiesa non può avere un messaggio suo. Se la Chiesa ha un messaggio suo non è la Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa ha un messaggio di Gesù Cristo. Il messaggio di Gesù Cristo è il Regno dei Cieli. Ecco perché noi insistiamo tanto su questo. Perché più rimandiamo quel momento, più dureranno guerre, carestie e altro. Perché il messaggio è quello del Regno? Io vorrei tornare qui. Guardate, ci sono molte altre cose buone che vengono predicate. Molte altre cose buone, perché la filosofia non è male di per sé. Ma che cosa è la filosofia? Non è una speculazione intellettuale per titillarsi con concetti esistenziali. Non c'entra niente. La filosofia è uno stile di vita. Quindi Gesù era un grande filosofo. Ma ci sono molte altre cose buone che vengono predicati, ma in modo settoriale. Allora dico io tutto ricompreso nel Regno. E' un grande rammarico rendersi conto dopo duemila anni che questo messaggio non è stato dato poi così tanto. E' in modo chiaro che le genti potessero sceglierlo. Perché anche questo deve essere messo in conto. Dare un messaggio serve alle persone perché digerendolo lo possano prendere come loro. Allora ecco qui perché il messaggio è quello del Regno. Il primo motivo è perché tutti lo cercano. Questa è una risposta molto chiara, ce l'ha data Gesù. Guardate Luca 16 16. La legge e i profeti sono durati fino a Giovanni. Da quel tempo in avanti il Regno di Dio è annunciato come la buona notizia e tutti si sforzano di entrarci. Qual è la cosa che mi ha portato a prendere questo passo? Guardate tutti si sforzano di entrarci. Lui dice fino a Giovanni la legge e i profeti e si è chiuso un tempo con Giovanni si è chiuso un tempo. Da lui in avanti è predicata la buona notizia del Regno dei Cieli. Prendete i Vangeli vi prego leggete cosa ha detto Giovanni. Cerchiamo di essere pratici. Andate a vedere. Giovanni iniziò a dire cambiate mentalità il Regno dei Cieli è vicino. Cambiate mentalità il Regno dei Cieli è vicino. E cominciavano a chiedere ma sei tu quello che deve venire? Ma sei tu il Messia sostanzialmente? No, non sono io. Quello che verrà dopo di me sarà più grande di me. Io non potrò legargli sanda e lui battezzerà Spirito Santo e fuoco. Non io. Io battezzo con l'acqua. Lui cambierà tutto. Quindi da allora in avanti da quando quest'uomo ha iniziato ad aprire bocca Giovanni era l'araldo del Re. L'araldo di Gesù è stato mandato avanti perché gli araldi venivano nei regni. di un tempo venivano mandati avanti nei luoghi dove il Re sarebbe arrivato ad annunciare che il Re sarebbe venuto. Quindi questa era la funzione di Gesù. Un araldo annunciava il Re. Il Regno dei Cieli è vicino. Il Regno dei Cieli è vicino. E lì trovate in tutte le Bibbie convertitevi. Questo ha ovviamente un aspetto morale della serie pentitevi. No, convertitevi vuol dire cambiate mentalità. Andate a vedere nel greco, nella versione originale del Vangelo. è la parola greca, ma io la posso anche dire, ma non serve a niente. Forse, vabbè, metanoete. La troverete lì. Qualcuno che se ne intende lo andrà a cercare. Vuol dire cambiate modo di pensare perché il Regno dei Cieli è vicino. Quindi tutti cercano di entrarci. Perché? Perché quando il Regno di Dio, lo Spirito Santo sta arrivando e cambierà le sorti dell'uomo, perché l'uomo potrà di nuovo riavere lo Dio in sé, essere uno con lui e quindi esercitare il dominio che gli è stato affidato fin dal principio. Tutti l'annusano. Tutti lo sentono. Questo è quello che dice Gesù. Tutti vogliono entrarci perché ogni uomo, non in senso di maschio, ogni persona, ogni individuo ha uno spirito di dominio. A tutti noi Dio ha dato uno spirito capace di essere forte nelle circostanze, capace di passarci attraverso, capace di avere informazioni da lui, capace di avere intuizione, capace di dirigere i suoi passi attraverso la coscienza, capace di far comunione con Dio ed essere uno con lui. Ogni individuo ha uno spirito così. E non è non è lo Spirito Santo quello, quello è lo Spirito di ogni persona. Ogni persona è fatta di Spirito, anima e corpo. E dunque quando lo Spirito di ogni persona sente, annusa il Regno di Dio è tornato, ci è ridato. In quel momento l'uomo desidera entrarci perché l'uomo desidera avere il controllo delle circostanze avverse della vita. L'uomo desidera potersela cavare nei momenti di difficoltà. L'istinto di sopravvivenza è qualcosa che ci rende adattabili a qualsiasi clima, a qualsiasi carestia, a qualsiasi povertà. L'uomo è fatto per stare in sella, non è fatto per soccombere sulla terra. Quando c'è una malattia, l'uomo spinge in tutti i modi per la guarigione, perché siamo fatti per la vita, non per la morte. La malattia è entrata nel mondo per invidia del diavolo, è un'opera satanica. Non è una benedizione la malattia. Non siamo fatti per soffrire, ma per vivere nella gioia. Non siamo fatti per soffrire. Se vi dicono che l'uomo è fatto per soffrire, è una bugia. Allora, quando quando gli uomini, le persone sentono questo ritorno, tutti cercano di entrarci. Guardate quanto l'uomo cerca il potere di non soccombere davanti alle situazioni di vita. Pensate a quelli che si rifugiano nell'occulto, la stregoneria, la divinazione, dalla lettura della mano alla lettura delle carte, predire il futuro, sapere cosa ti accadrà domani. Che cercano? Potere. La possibilità di dominare le forze della vita su questa terra attraverso qualcosa di soprannaturale. Tutti lo cercano. Naturalmente finiscono anche, come queste persone, in situazioni di abominio agli occhi di Dio. Perché l'occulto è un adulterio spirituale. Dio è chiaro su questo. Lui lo chiama abominio. Perché? Perché non metti la tua fiducia per il domani in Dio che provvede a te, ha un piano eterno e lo svolgerà per il tuo bene e insieme a te attraverserà ogni cosa e trionferà la sua gloria in te. No. Non credendo questo, non affidandosi a lui, hanno bisogno di qualcosa che gli dia sicurezza. Quindi quando uno va dal mago a cercare che succederà domani, sta rinnegando Dio. Quando uno va dal mago per fare una fattura, per costringere la persona a innamorarsi di lui o maledire qualcuno, sta cercando potere soprannaturale per superare le circostanze terrene e avere ragione su di esse. Capite lo spirito dell'uomo cerca questo, ma quando non trova Dio lo cerca in officine non autorizzate e si perde e fa del male. Quelli che che cercano il contatto con i morti, che parlano con i morti, che 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 interrogano i morti sul futuro e sulle cose. E' territorio proibito, Dio dice non toccate quella roba. Ma i cristiani lo fanno, lo fanno, lo fanno, quasi tutti. Ma insomma, non era questo il punto. Il punto che voglio dire è quest'altro. Tutti cercano d'entrarci perché tutti hanno questa questa sete innata di poter far fronte alla vita che li viene incontro. Per questo il messaggio del regno è il messaggio che tutti aspettano. Mentre si perdono dai maghi, dalle streghe, dagli indovini, dai negromanti, dai medium. Mentre si perdono lì, i cristiani non parlano del regno, quindi loro dove lo trovano il regno di Dio? Dove? Possono trovare dei buoni precetti religiosi, possono trovare delle sane dottrine morali. Ma dove lo trovano il regno di Dio? Allora siamo noi che lo possiamo portare. Ancora, perché il messaggio è quello del regno? Perché tutti lo vogliono. Qui riprendo la parabola del tesoro nascosto nel campo. Vedete, quando uno trova il regno, guardate cosa succede. Il regno dei cieli, disse Gesù, è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo dopo averlo trovato nasconde. Quindi qui è la storia di un uomo che sta lavorando un campo e mentre passa nel campo con gli attrezzi trova un tesoro. Perché una volta non c'erano le banche, insomma. E quindi che facevano? Mettevano, nascondevano le ricchezze sotto terra. Poi mettevano dei segni naturali, sassi o altro, per riconoscere dove l'avevano messi. Così stavano al sicuro. E questo ci è cascato sopra a un tesoro che era stato nascosto. E allora che fa? Quando uno trova un tesoro e lo paragona al regno dei cieli, Gesù. Il regno dei cieli è il tesoro. Guardate che fa. Lo rinasconde. Perché lo rimette lì? Perché dice per la gioia che ha, che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Perché? Perché ha capito chi trova il regno che tutto il resto è nel regno. Non è che vende tutto per essere povero e godersi la povertà. La povertà non la godi, la subisci. È una sofferenza. Gesù si è fatto povero, morendo con la nostra povertà addosso sulla croce perché noi fossimo ricchi della sua ricchezza. Allora tutto quello che vale nella tua vita non lo devi buttare via, ma è nel regno. La parabola ci dice questo. Tutti lo cercano e tutti lo vogliono. Una volta che l'hai trovato, quindi lo cerchi. Una volta che l'hai trovato, non lo lasci più andare, anzi tutto il resto lo trovi lì. E quindi quelli che si rivolgono all'occulto non troveranno più nell'occulto quello che cercano, ma sanno che è lì e danno via tutto il resto. Lo buttano via e tengono il tesoro, il regno di Dio. E lì potranno avere tutte le loro risposte e il piano di Dio iniziare a svolgersi per loro. Meraviglia. Ancora il regno. Perché il messaggio è questo? Perché il regno preme per venire e i violenti lo saccheggiano. Guardate un po' che cosa vuol dire. Questa traduzione troverà molti sorpresi perché di solito non è questa la traduzione che trovate, ve la vado a prendere. Matteo 11 è uno spunto di riflessione importante questo perché sulla base di questa scrittura, tradotta così come vi leggo, guardate nelle vostre Bibbie, Matteo 11, 12 ha portato a degli eccessi inauditi. Io l'ho sentiti e cioè la traduzione che fanno di solito è questa dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. E cioè andavano predicando, l'ho sentito io, che bisogna essere violenti, avere una forza, una fede violenta per poter prendere il regno dei cieli. E quindi incitava i cristiani in qualche modo ad avere un approccio violento. Naturalmente ti devo dire con forza, con vigore, con ma pensate dove porta una errata traduzione. Invece vuol dire che da quando è venuto Giovanni e Giovanni cosa iniziò a dire? Cambiate mentalità, il regno dei cieli è vicino. Quindi da lui, prima non l'aveva mai detto nessuno, il regno dei cieli è vicino, non l'aveva mai detto nessuno, lui è il primo. Con lui finisce il vecchio testamento, con lui inizia, nel senso lui fa da spartiacco perché annuncia il regno. Lui è l'unico di quelli di prima che l'ha visto venire. Gli altri ne hanno parlato che sarebbe venuto, ma lui è l'unico che l'ha visto venire. Per questo si dice inizia il nuovo con lui. Allora da Giovanni Battista fino ad ora, dice Gesù, fino a quando io vi sto parlando, il regno dei cieli preme per venire. Voi pensate, c'è un libro che qui l'ho tradotto io dall'inglese per l'editore di Bill Johnson, quando il cielo invade la terra. Chi non l'ha mai letto lo può leggere, è un libro molto bello, molto semplice. E cioè io me lo vedo come come la forza d'impatto del re, la sua volontà, il suo spirito che preme per venire. Dio stesso che preme. Per venire nella vita di ciascuno. E dice, i violenti lo saccheggiano, i violenti, i demoni e i loro veicoli che sono uomini, lo saccheggiano. Lo impediscono di avanzare. In altri parti Gesù ha detto dei religiosi che si mettono davanti alla porta del regno e loro non ci entrano, ma nemmeno ci fanno entrare gli altri. Gesù era chiaro su questo, qui c'è gente che vuole impedire che il messaggio arrivi alle persone. Questo era quello che lui diceva e questo vale anche oggi per noi. Il regno dei Cieli preme per venire. E' come un parto, preme per venire in ogni istante. Ora venga il tuo regno, preme per venire. Ma questi demoni con i loro veicoli, i loro contenitori, uomini che si prestano l'azione demoniaca, lo saccheggiano. Lo tolgono alla gente. Se ora sentite questo video e dopo ne parlate con qualcuno che ha sentito la religione più che il regno. Cioè crea in tutti i modi, anche in buona fede, anche in buona fede, di portare via. Non ve lo fate portare via. Un'altra volta parleremo della parabola del seminatore perché lì è chiaro come si può evitare di farsi portare via il messaggio. Non è stasera il momento. Dunque, questo ne abbiamo già parlato. Lo ripeto, qui Gesù non venne per creare una religione, ma per restaurare una famiglia. La volta scorsa abbiamo parlato di Luca 15. Abbiamo visto questo padre che atteggiamento aveva nei confronti dei figli che purtroppo l'avevano preso o come un datore di lavoro o come un despoto da obbedire a tutti i costi, ingozzando a mano. Dunque, io credo che per stasera non posso iniziare la sessione sulla religione e il regno perché è una tavola sinottica, direi. Guardate, ecco, ve l'anticipo soltanto per la prossima volta. Così resterà in un solo video, in una volta unica, sarà meglio per tutti, oltre che per me, per tutti quelli che ne godranno. Ecco, e quindi vi rimando a mercoledì prossimo per questa importante sessione sul regno. Dunque, il punto è questo. Quando l'uomo, e torno qui per chiudere, quando l'uomo che cerca, che trova il tesoro nascosto nel campo, vende tutto per comprare il campo nel quale si trova il tesoro. Per cosa lo fa? Per soddisfare se stesso oppure no? Qual è il motivo per cui compra questo campo? Evidentemente, tutto ciò che aveva e chi ha dato via, che fino a quel momento costituiva il valore per cui viveva, lui stava faticando in un campo, stava lavorando, perché aveva qualcosa di valore a casa per cui valeva la pena lavorare e faticare. Ebbene, quando lui trova il tesoro, dando via tutto il resto, il Signore ci vuol dire che lui ha considerato di maggior valore quello che ha trovato in quel campo. Se nella tua vita, perché? Perché il resto lo soddisfava di meno, lo soddisfaceva di meno. Quando nella tua vita non sei soddisfatto, fondamentalmente quello che cerchi è il tesoro nascosto. Quello che cerchi è il regno dei cieli. La nostra insoddisfazione è data dal fatto che non stiamo svolgendo il nostro incarico, è data dal fatto che non stiamo perseguendo il nostro scopo. Possiamo avere quattrini, avere barche, case, avete visto negli ultimi tempi cosa hanno trovato. Puoi avere tutto, ma essere insoddisfatto della vita e quindi cercare ancora di più, ancora di più, perché in realtà cerchi il regno. L'insoddisfazione è segno che stai cercando il regno. Io lo dico per tutti quelli che non hanno mai sentito questo messaggio. L'insoddisfazione non è segno che Dio non è con te, quello è il segno che sei fatto per altro, è solo il regno dei cieli e dove lo trovi. Per cui quando sei insoddisfatto del tuo lavoro, la tua macchina, le tue amicizie, è perché stai cercando il regno dei cieli. Tutto quello che hai, dagli amici, ai coniugi, ai figli, al lavoro, alle case, se non li trovi nel regno, non ti lasceranno mai soddisfatti, mai. Se non c'è Dio nella tua vita e la sua potenza con te per poter vivere tutte queste belle cose alla sua luce, non sarai mai soddisfatto e correrai sempre dietro a tutto, a tutti pur di cercarlo. Quindi è una chiave positiva, se sei insoddisfatto, non ti buttare giù, ma capisci che quello è il segno che stai cercando questo, il regno dei cieli e inoltre è nascosto. Che vuol dire nascosto? Avete visto? Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto e lui dopo averlo trovato lo rinasconde. Che vuol dire nascosto? Perché nascosto? Perché? Ci deve essere il desiderio di trovarlo. Gesù stesso parlava in parabola alla gente, vi ricordate, glielo chiamano, perché parli in parabola? Eh, disse perché loro non le posso dire le cose chiare come a voi. Era come se Gesù mettesse in loro un seme di curiosità, un pizzico di, un barlume per poter iniziare una ricerca. Chi aveva il cuore buono e desideroso di Dio l'avrebbe trovato. Vedete com'è Dio? Non ti forza mai. Ti dà il là, ti dà l'inizio, la scintilla. E poi aspetta che la tua sete, il tuo desiderio di Lui, tu lo riconosca come autentico e lo cerchi veramente. Quando lo cerchi, si fa trovare. E questo lo dice chiaramente Dio. Se mi cerchi, io mi farò trovare, sono vicino a te. Non ci sono problemi. Questo non è un problema. L'unico problema è cercarlo e quando l'hai trovato dare via tutto il resto per goderti il tesoro che hai trovato. Bene, dunque con questo chiudiamo la nostra ora insieme, anche questo mercoledì. Vi saluto, vi salutiamo tutti qui da Siena. Vi benediciamo dal canto nuovo ancora una volta. Mercoledì prossimo parleremo di religione contro regno e potrete vedere bene di cosa si tratta e chiarire i concetti che ci stanno sotto. Nel nome del Signore, buonasera a tutti. Grazie. Grazie.